buongiorno ragazzi benvenuti ecco la prima carta benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero anche oggi andiamo a vedere quindi le energie del giorno e poi voi mi direte se coincidono con quelle che sentite voi nell'aria ovviamente per avere una sessione privata con me ok ecco le tre carte per avere una sessione privata con me di tarocchi life coaching o analisi karmica oppure se volete un pacchetto potete inviare un email alla mia assistente che vi spiegherà tutto o in alternativa prenotate dal sito internet se volete invece diventare miei studenti mandatemi un messaggio whatsapp dunque allora abbiamo una regina di coppe una regina di denari wow oggi abbiamo due regine quindi io già ecco prima di tutto chiedo i miei studenti di mettere in pausa e di dire secondo loro che cosa accade quando ci sono due regine nell'aria tra l'altro stavo proprio pensando in questi giorni di aggiungere una lezione al videocorso di tarologia di secondo livello per proprio per parlare di cosa significa quando troviamo più figure di corte all'interno di una stesa in questo caso è evidente l'altissima concentrazione l'altissima percentuale di figure di corte in una stesa di tre carte dove ce ne sono due è altissima e quindi ecco due regine è una giustizia ovviamente studenti mettete il vostro commento e cominciamo prima di tutto quello che io noto è che mi sarebbe tanto piaciuto vedere le carte messe così avrebbe avuto un significato diverso perché avrebbe avuto come carta centrale la giustizia e come due carte laterali le due persone coinvolte perché sì ragazzi le due regine sono due persone coinvolte in questa storia nella vostra giornata di oggi o nei giorni intorno ad oggi se le carte fossero arrivate in questo modo avremmo visto un perfetto equilibrio fra le due figure avremmo visto un bellissimo gioco di scambio reciproco fra le due figure di giustizia di equilibrio ma le carte sono uscite così quindi il significato è leggermente diverso ciò che invece si nota da queste carte è la vicinanza delle due regine quindi perché due regine vicine hanno un significato emotivo superiore rispetto a due regine potenzialmente lontane perché questa vicinanza corrisponde anche ad una vicinanza fisica ad una vicinanza mentale ed emotiva il fatto che queste due carte si trovino in questo modo in questa posizione e che tra l'altro voi sapete nella lettura intuitiva c'è sempre una dose di intuizione c'è sempre una parte di intuizione in qualunque lettura anche se siete i classici tipi che piuttosto leggete le carte ricordandone il significato oppure magari se siete maschietti perché gli uomini hanno ovviamente un cervello diverso dalle donne e quindi per un uomo è molto più facile utilizzare la logica e la memoria piuttosto che l'intuizione di solito ragazzi ovviamente di solito non è non vale per tutti quindi però ecco intuitivamente queste due regine fanno proprio pensare a una forte amicizia a un forte legame a un qualcosa che unisce due persone potrebbero essere due donne sicuramente o potrebbero essere anche due uomini o un uomo e una donna che stanno manifestando una forte energia femminile quindi una grande amorevolezza una grande accoglienza un grande stato di sintonia e anche di complicità perché quali sono queste regine con cui noi abbiamo a che fare sono la regina di coppe la regina di denari cioè mentre una offre la sua integrità emotiva i suoi sentimenti il suo voler bene il suo affetto l'altra offre la sua presenza fisica la sua stabilità la sua il suo radicamento e la sua capacità di gestire l'elemento terra la concretezza l'altra gestisce l'elemento acqua emozioni che cosa meravigliosa esce fuori quando si uniscono questi due elementi significa non so se ragazzi ricordate la lezione di primo secondo livello buono mi ricordo mai mi confondo sempre fra queste due e la lezione nella quale spiego la compatibilità delle lame di corte al di là dell'essere uomo o donna in questo caso noi potremmo vedere in questa stesa una storia che riguarda noi è un'amica noi è una nostra madre noi è nostra sorella noi è la nostra collega di lavoro o noi è il nostro partner perché no tutto è possibile però tornando alla lezione sulla compatibilità delle lame di corte sono o non sono compatibili queste due lame assolutamente sì quando noi uniamo coppe e denari viene fuori di sicuro un mix molto resistente molto sano perché ecco bisogna essere bisogna mettere sia le emozioni sia la stabilità e la concretezza per creare una relazione sana con chiunque non esistono relazioni sane dove non ci sono denari o dove non ci sono coppe certo una relazione fatta di bastoni e spade ragazzi ma che tipo di relazione può uscire fuori aria e fuoco cioè se qualcuno di voi ha studiato ayurveda sa che mettere insieme aria e fuoco rischiamo di incendiare l'appartamento quindi invece in questo caso abbiamo la terra dove crescono i nostri frutti e abbiamo l'acqua che serve a innaffiare le nostre piantine i nostri semi e quindi far crescere i nostri frutti bellissimo mix bellissimo match e ecco che appunto la giustizia non fa altro che rafforzare il la sintonia che trapela da questa immagine da queste due carte la giustizia che ci dice che potremo per esempio nella giornata di oggi o ricevere delle scuse da qualcuno da uno dei due riceve le scuse oppure uno noi potremmo essere coloro i quali chiedono scusa a qualcuno coloro i quali cercano di recuperare a un torto fatto a un fatto la giustizia è sempre un mettere le cose al proprio posto ricordate lo ponopono la giustizia è un ricreare l'equilibrio lì dove era stato perduto la giustizia è anche il karma che ci sbatte in faccia le conseguenze delle nostre scelte quindi se noi abbiamo scelto bene se noi abbiamo scelto bene in linea con ciò che era meglio per noi e per gli altri allora ecco che questo ci viene ricambiato se noi invece non abbiamo scelto bene perché nelle nostre scelte abbiamo fatto del male a noi stessi tanto male a noi stessi oppure abbiamo fatto del male a qualcun altro tanto male a qualcun altro ecco che la giustizia rimette tutto al suo posto e la giustizia ci fa sentire sulla nostra pelle esattamente ciò che noi abbiamo fatto sentire agli altri quindi beh ragazzi chi di voi si è comportato bene avrà tanto bene chi di voi si è comportato male avrà tanto male così funziona il karma non è una cosa positiva o negativa è semplicemente uno specchio di noi è un muro di gomma che fa rimbalzare le nostre palline energetiche poi vabbè io di palline energetiche ne parlo abbondantemente nei video della domenica del sabato della domenica o nei video corsi ovviamente di magia d'amore telepsichia o psicologia karmica ed energetica quando parlo di pallina energetica io intendo tutto ciò che noi emettiamo al di fuori di noi nell'universo quindi gesti azioni parole e pensieri perché una cosa ragazzi che non vi ha mai spiegato nessuno ed è per questo che ho voluto assolutamente parlarne in modo approfondito nel video corso di psicologia karmica ed energetica una delle cose che ci crea tanti di quei danni nella vita che noi non abbiamo nemmeno idea e ci domandiamo ma come mai mi è capitato tutto questo ragazzi anche i pensieri generano karma molti molti di voi o meglio io azzarderei anche dire molti operatori olistici esoterici insomma gente del settore gente che io chiamo colleghi molti purtroppo non hanno ben capito cosa significa realmente karma non non è chiaro non è colpa loro per carità non è colpa loro purtroppo le informazioni che arrivano qui da noi in occidente sono filtrate è ovvio ma già basta pensare alle traduzioni dei testi antichi di altri paesi che vengono tradotti in un linguaggio moderno in una civiltà moderna che interpreta tutto a modo suo e quindi ecco che il karma ha iniziato ad apparire come un qualcosa come una punizione una punizione che se fai qualcosa di male ti torna no ragazzi non è assolutamente così e soprattutto il fatto di non avere compreso i reali meccanismi con cui il karma funziona non funziona sono proprio la causa è proprio la causa della nostra della maggior parte dei nostri problemi tanti operatori del settore come dicevo non hanno ben capito questa cosa e a volte io rimango un po così un po allibita perché sento eh vabbè ma che c'entra il karma io qua non non ho fatto niente io qui non c'entra nulla qua è una roba delle mie vite precedenti sicuramente sarà karma delle mie vite precedenti ma io mi sono stufata di queste vite precedenti e invece non si rendono conto che è karma generato magari dieci minuti prima non dalla vita precedente ma dieci minuti prima perché così funziona il karma agisce nell'arco di secondi a volte di minuti di giorni di anni anche di vite anche dipende da dipende dall'entità e dalla tipologia di azione che noi compiamo dipende dal pianeta che registra il gesto che noi abbiamo compiuto dipende dalla velocità con cui questo pianeta si muove sulla sfera celeste la tempistica con cui il karma ritornerà indietro ma molte cose che noi creiamo molto karma che noi creiamo dipende proprio dai nostri pensieri e non dalle nostre azioni o dalle nostre parole e non dalle nostre azioni ed ecco che tante cose che sembrano ingiuste o sembrano provenire dalle vite precedenti in realtà vengono proprio da ieri ma nessuno ce l'ha mai spiegato non è colpa nostra ragazzi io io cerco proprio di mettere nei miei corsi quello che non si trova in altri posti perché altrimenti non avrebbe senso fare scopiazzature e non servirebbe a nulla però ecco capire bene quali sono i meccanismi energetici che gestiscono la nostra vita la vita degli altri la vita dell'universo in generale in quanto entità vivente è fondamentale per evitare tanti problemi nella vita però torniamo a noi torniamo alla nostra stesa queste due carte oggi queste due persone questi due personaggi oggi riceveranno giustizia siamo noi con un'amica siamo noi con un'altra persona con un partner scrivetemelo ragazzi qui sotto nei commenti ma soprattutto quello che vi chiedo di scrivere nei commenti è questo senso di giustizia il modo in cui voi percepite il senso di giustizia il modo in cui questo karma ritorna a voi opposi o dandovi qualcosa di positivo o dandovi qualcosa di negativo in base appunto a ciò che avete creato energeticamente in precedenza fatto sta che sembra che questa giornata sia veramente bella perché potrebbe essere per esempio una giornata di risoluzioni nella quale finalmente abbiamo quello che meritiamo cioè una specie magari anche di riconoscimento non necessariamente in pubblico ma con noi stessi e per noi stessi o con gli altri che fanno parte della nostra vita è come questa giustizia finale è come il il tutto che torna al suo posto e che quindi ci restituisce esattamente quello che quello che noi stessi abbiamo seminato perché si tratta appunto di raccogliere quello che noi seminiamo e credo tra l'altro che sarà oggi è un'ottima giornata per chiarire le cose con qualcuno quindi se voi in generale sentite il bisogno di chiarire delle situazioni con partner amici colleghi o qualunque cosa sia parenti fatelo oggi perché c'è davvero una bella energia che potrebbe portare potrebbe agevolare la comunicazione la conversazione o perlomeno il raggiungimento di un raggiungimento di una verità di una di un accordo di una situazione che vada bene per tutti potrebbe essere coinvolta solo una persona o più persone questo le carte non ce lo dicono non scendono nei dettagli cosa prova per me mi cercherà impara a leggere la sua mente con il metodo maya iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com vediamo adesso qual è il pizzino angelico di oggi e che cosa gli angeli hanno da aggiungere o da suggerire no troppe 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 nel frattempo ragazzi io vi ricordo che se volete diventare miei studenti di qualunque corso quindi di tarologia o di magia d'amore telepsichia o di psicologia karmica ed energetica ovviamente dipende dal tipo di percorso di crescita spirituale che voi state seguendo comunque se volete questo genere di informazioni ragazzi vi informo in anteprima mondiale che da adesso in poi avete a disposizione una mia collaboratrice Elisa che si occupa e che è responsabile proprio del settore videocorsi quindi se volete informazioni sui videocorsi potete direttamente contattare lei o me adesso vediamo io non so quando questo video verrà pubblicato esattamente perché io come sempre registro prima qualche giorno prima però ecco se siete interessati ai videocorsi inviate magari un messaggio whatsapp a me se non ho ancora pubblicato il numero di Elisa da qualche parte e io vi indirizzerò Elisa che vi farà una chiamata vi spiegherà tutto risponderà a tutte le vostre domande senza nessun impegno di modo tale che voi poi potete decidere se iscrivervi o a cosa iscrivervi o quale rateizzazione attuare o che sconti magari avere ecco il messaggio degli angeli dice che è se il momento idoneo confia e nel leccio de che tu deseo e sta appunto de materialisarse quindi effettivamente questo è il momento giusto affinché qualcosa che noi meritiamo si realizzi e ripeto state attenti perché meritare vuol dire nel bene o nel male quindi poi non vi lamentate se oggi la giornata vi va storta perché vuol dire che ve lo siete creato e se non capite come ve lo siete creato scegliete il corso di psicologia karmica ed energetica così avrete tutto chiaro una volta per tutte dopodiché andrete in india a fare i guru dopo quel corso perché penso che ho veramente messo tutto quello che vi serve anzi ho proprio sbagliato titolo lo dovevo chiamare manuale manuale per principi anti guru ma la carta degli angeli ci dice che questo è effettivamente il momento giusto per fare in modo che un nostro desiderio possa realizzarsi quindi spingiamo energeticamente verso la direzione dei nostri desideri facciamolo mentalmente facciamolo appunto energeticamente facciamolo con la testa con il cuore ma anche con le azioni non dimenticate mai che agire fa parte di tutto ciò che noi dobbiamo fare per arrivare ai nostri obiettivi cioè la legge d'attrazione non è pensa immagina vivila e stai seduto no se pensate che la legge d'attrazione sia quella non avete capito niente ma anche lì non è colpa vostra ragazzi e purtroppo la è che quando un'informazione da un paese va in un altro paese da un'epoca va in un'altra epoca e viene viene trasformata e quindi poi bisogna un po riunire tutti i puntini per capire bene di che cosa stavamo parlando e come davvero funziona quel qualcosa ma va bene ragazzi io come sempre spero di esservi stata utile e mi auguro che davvero la giornata di oggi sia così appagante equilibrante che ci restituisca davvero ciò che siamo e ciò che meritiamo e ovviamente sono curiosissima di vedere nei vostri commenti che cosa vi accadrà per il resto ci vediamo a domani